Che cos'è l'ossessione? È la precisione di un dettaglio, l'estasi della materia, l'esaltazione di una performance. È il viaggio verso un traguardo straordinario. L'ossessione è superare i limiti, ridefinire il tempo e le sue frazioni. Una visione nitida e profonda, per sentire oltre quello che si può vedere. Il suo profilo aerodinamico taglia il vento, stabile e veloce. L'aria è il nostro avversario nella sfida alla velocità, ma ci dà il respiro per imprese oltre l'umano. A 160 km orari il suo peso si annula. La sua calotta è pura fibra di carbonio. Titanio, magnesio, alluminio. Lo stesso campo visivo dell'occhio umano. I sogni diventano verità nelle prestazioni. Alzati. Accelera. Corri più veloce. Piega lo spazio. Dispiega le ali. Dai tutto. L'eccellenza non è abbastanza. Il record è ancora poco. Spingiti oltre. Diventa leggenda. Diventa invincibile. Ossessione. Essenza stessa della perfezione. Torra. Nimattia consapev profesionali. Consapev spikeuale. Grazie a tutti.